Ascoltatemi bene raga, domani venerdì 17 è una data che rimarrà nella storia, alle ore 14 in punto su tutti e quattro i canali dei mates uscirà una nostra serie tutti e quattro insieme, posso solamente dirvi una cosa, lasciate like intanto a questo video e non perdetevi il video di domani, buona visione. Oppure farlo uncut, un video per un mese e sgheriii! Cambi incline, con trier, football, accendete le webcam quindi ho due iphone. Bene ragazzi, questo è app e bentornati, mi sono visto un video di minecraft sul mio canale, siamo tornati in una bedwars eccezionale in compagnia di tutti quanti me! Ma ci siamo tutti, ci vediamo tutti o non ci vediamo tutti? Allora, ci sono due ipotesi, questa è l'ipotesi in cui abbiamo quattro webcam, abbiamo alle spalle due vittorie su due, quindi questa è la terza perché non c'è due senza tre, giusto? È vero, abbiamo fatto due bedwars in quattro con un handicap, cioè il fatto che io non sappia giocare alle bedwars, quindi facciamo anche questa terza vittoria. Ma poi raga, c'è il magico, come fai per me? E dai, è il magico! Raga, ma andiamo a fare i tornei competitivi, facciami soldi. Andiamo dalle compagnie e diciamo, raga, abbiamo il cento per cento di vittorie. Ponsor! Ti provo a vedere solo le statistiche di Giuseppe, poi lo cambiamo. Oh, due vittorie e due partite, che cavolo volevo? Eh, se vede le mie, c'ho cento partite e settanta sconfitte. Raga, io vi faccio una cosa, non voglio che vi parliate sopra, altrimenti vi spacco le gare. Tipo così? La mappa è una merda. No, invece è carina, non è male, ti dico la verità, ci sta. Ma io non sta l'odio, appena andrà per gli smirali devi far parkour. Ma raga, ma adesso, beh, li prendete voi diamanti, col cacchio che faccio tutta la parte a prendere diamanti. No, ricordatevi che io copro il letto, eh. Ma vai, io faccio un ponte verso il centro. Se finisce come l'altra partita, speriamo di no. No, tranquilli, adesso faccio bene, ho capito come funziona. Allora, Stefanos e Alcientros, ok. Ah, fai una cosa, su, riguarda, ti lascio i blocchi, tieni qua, così puoi andare da una parte e dall'altra. Sai cosa faccio? Io vi metto tutti i piccolini in un angolino in alto a destra, piccoli piccoli. Ma perché, ma cazzo, perché non c'è spazio, siamo troppi. Sono dietro di te, sarà la tua ombra, vai, muovete. Ma io sto andando a prendere gli smeraldi qua al centro. Giuseppe, non per dire, ma il letto è ancora scoperto. Sono i verdi. Tranquillo, è già protetto. Dobbiamo fare il parkour per recuperare. Vieni, Zio, vieni qua, ci sono i verdi, vieni qua. Metti, c'è anche il vetro, mi raccomando. Vieni qua, vieni qua, se no c'è massa nostra. Ma non si capisce un cazzo da questo centro, cioè da dove si arriva? Eh, visto perché l'odio? Devi far parkour poi appena riuscire. Ha mangiato la mela d'oro, ha mangiato la mela d'oro, quello. Te l'ho visto. C'è la mela d'oro? Ma che cazzo la comprata a farvi? Se, sta salendo, eh. Domanda tecnica, chi posso chiedere? Vai, 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 vai. Quindi devo mettere il vetro sopra. Morto, è morto. Puoi metterlo anche intermezzo, così... Prendeci anche l'altro, eh. Scappa, c'è il blu, torna a casa. Sopra più che alto, così se fanno i punti dall'alto... Ok. Occhio a ste che arrivano in blu, girati. Che stai facendo, Giuseppino? Fammi fare a me, stai zitto. Fammi fare a me. Oh, ma va a me, ya. Ma va a tutto guanna mia. Guarda che c'è la prima guerra mondiale, le trincelle scavata Giuseppe. Ecco. Calma, il vetro sopra, abbiamo detto. Ricordatevi, raga, con parsimonia, usate i vostri diamanti. Non ne vedrò neanche uno in tramartina. E direi che gli smeraldi sono fin troppo fondamentali. Occhio, zio. Questo cazzo è? Oh, a scemo, e mori. C'è anche il verde, sto arrivando, eh. Dov'è il verde? È qua in mezzo. Sta salendo l'altro smeraldo. È stupido, è stupido il verde. No, Sasha, ce ne sono due, attento, eccoci. No, no, adesso ci sono nulla, adesso ci sono nulla. Aspetta che c'ho un po' questo di sotto nel vuoto e eliminato. Raga, ma si buss. Occhio, ecco, 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 sopra, eh. Occhio, ecco, ecco, dietro. Vuoi disattivare il fatto che sale da sulle scale? È stupido! No, gli smeraldi! Non ho capito che cosa vuoi disattivare. Eh, va bene, raga. La salita delle scale da su. Blu, Sasha, blu, 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 blu. È sopra di te, eh. Raga, Giuseppe c'è l'autogjump attivo. Mi dà un fastidio tremendo. È perché ho ristallato Minecraft. No! Mi dà un fastidio tremendo. Penso sia illegale giocare di Bad World. Lo so, infatti è fatto così. Arriba, arriva, arriva, arriva. Dove, chi? Il verdolino del cazzo. No, sono caduto tua madre! Caraca, schifo. C'ho uno di vita, via. Ma perché io muoio solo cadendo? Non mi ammazzo mai nessuno, non muoio cadendo. Potresti farci una maglietta, muoio solo cadendo. Barcollo, ma non mollo. Che cazzo è l'autogjump, santo Dio. Eccolo. Aia, io devo scappare. Devo scappare di qui, è troppo pericoloso, via. Chi è che ha preso la sharpness? Bravi. Fate anche un po' di protection, mi raccomando. Ditemi se è buona questa struttura, dai. Giuseppe se sta cavando abbastanza bene. Eh? Ti è piaciuta? Bad destroyed. Come? Eh? Beh, non sarebbe la prima volta, me lo facciamo a sicuro. Raga, ma io ve l'ho realizzato ora che siamo sopra delle tartarughe che volano. Cosa? Guarda, guarda tutti i mondi. Sono tartarughe che volano. No, verdi e blu si stanno mettendo d'accordo. Lo sa? Come stanno mettendo d'accordo? Eh, mi sembra perché qui non si stanno ammennando. Ora si micchiano, ora si micchiano. Attento, 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 ste. No, attento. Arrivo, arrivo, eh. No, sto morto. C'ha sei di vita. Uno di vita, c'ha uno di vita. È mio, dammila, che schifoso. No, ha buttato diamanti nel voto. Filo di tua madre. Attacca, attacca. Ok, vai, ne ho scelto uno. Si chiama Spupi. No, che... No, ma parco il cazzo. Ecco, iniziamo. Mi piace quando si sclera. I rossi sono in tre, raga. I rossi sono in tre, allora direi di approfittarne, eh. Adesso con la spada quella devastante voglio vedere il caspita. Ui su go, ui su go, ui su go. Che fai, Giuseppe? Mi sa che ho fatto una piattaforma troppo grande. No, no, va bene, tenila così. Più spazio c'è, più siano comodi. Questo è che vuole, scusa. C'è un blu che rompe i coglioni, raga. C'è un blu. Occhio. Oh, madonna. Mi ha dato un knockback assurdo. Io mi sto mettendo ancora un po' di lana in giro che fa sempre comodo. Il blu è morto. Non mi rovinare la mia struttura, saccia. Ma stai zitto, che non è mica la laurea muratora. Era figo. Vecchio bastardo decrepito. Occhio sopra c'è un verde. Un verde, ma qui è pieno di gente. Ma quanti si è? No, sono caduto di sotto, che coglione. Sono vivo, però. Il blu è andato dai rossi, raga. Ah, scemo. Mancano solo i verdi. I verdi stanno andando... Eccolo pofo, muori. Sono riuscito a prendere altri due smeraldi. Che significa che dovrei averne quattro in totale. I blu sono fritti. Ah, pensavo delle merde. Anche. La nostra struttura è impossibile da distruggere. Raga, i verdi si stanno avvicinando. Io per sicurezza torno a casa. Raga i verdi. C'è un pandemonio nel centro, raga. C'è un pandemonio. No, no. Non ne ho quattro, ne ho sei. Mi ero dimenticato. C'ho l'armatura. Se avete dell'oro mi posso fare tante, tante, tante frecce. Io ne ho sei. E io ce l'ho, ce l'ho. Grazie. Dovete aiutarmi a debruzzare lì. C'è, prendi, te l'ho buttato. Che è successo, zio? Sei scemo. Che c'è, zio? Che succede? Ok. Niente, ho preso tante frecce. Ora ho l'arco quello bello, 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 bello. Oddio, che c'è qui? Raga, è impazzito. È un po'. Cos'era quello? È una final kill. Ok, mi sa che la struttura sia a posto. Sapete cosa vi dico? I rossi mi sembrano abbastanza stupidi. Ecco. Letto dei rossi è andato. Boom. Onesto. Coglioni. Vabbè, allora se... Vabbè, fai. No, no, stai ciotto. Ok, posso iniziare a far qualcosina. Oh, che culo, che culo. Ma dove sei, zio? Non capisco. C'è il grinto. Non capisco dov'è. Ero dai rossi? Se qualcuno ha un arco, raga, spari a quel rosso che sta facendo. Lo fiappo! Oddio, di quanto? Non ce l'ho all'arco io. Lo prendo io, tranquilli, raga. Sono stepley! L'ho mancato. L'hai mancato. Sono stepley! L'ho mancato di nuovo. La rifacciamo. Sono stepley! L'ho mancato. Sono stepley! Stai attento che ci sono i verdi che rompono da sotto il pillar, dai. Adesso che è la TNT, attento che sono la TNT. Sono stepley! Sascha ha la TNT! Che sta succedendo? Sly, gli stifosi! I verdi, i verdi, i verdi, i verdi, i verdi, raga. Oh, mio Dio, che di genero. Sascha sotto, ci sono i verdi. Mi compro due mele d'oro, se no io vado a poche fatti. Raga, raga, ci stanno spaccato il letto, ci stanno spaccato il letto. No! Tu come, sorriso! Eh, ma non gli avevo lì sta trap. Ma cavolo! L'ho già ucciso, l'ho già ucciso. Oh mio Dio, che disagio. No, i verdi! Infami schifosi! Ho sentito un pezzo di vetto, ho detto, ma Giuse, perché stai modificando la base? No, io stavo dall'altra parte. Renzo Piano dei miei coglioni, papà! Perché stai? Ero dai verdi, Sascha! Renzo Piano. Era sul ricaricolore. Che stai modificando la base, Giuseppe? Però io ti basto tutto, mi sta dando fastidio sta cosa. Un po' di diamantocci pure non fanno schifo, eh. Ho preso 8, e dico 8 diamanti. Stanno arrivando i verdi, eh? Arrivano i verdi dagli altri davanti, dagli altri davanti. Potete vedere come muore un blu? Così dalla feritoia! No, l'ho mancato. Dalla feritoia. Ah no, stanno rompendo il... Che stupidi, stanno rompendo il ponte! E cazzo tutta la scuola! Se passa il blu dal ponte è morto. Camper un secondo, che almeno mi faccio la cosa di ferro e la spada di ferro. L'arcatura è spada. Aia, aia! Ragazzi, i verdi arrivano, arrivano i verdi! Da dove? Ma da dove? Dal centro. Ma ho ucciso. No, raga, base in alto? Mi ha fatto raga a perdere il letto? Eh, ma non avevamo l'istatrap. Egnogno. E blu, c'ha spada e diamante. Ok, un secondo, almeno prendo l'arco e ce l'ho. Sono caduto e sono morto. Veramente? Sì. Una son persa, sa che... La vita fa schifo. Dietro, dietro, quello da dietro. Primo c'è di trovarci. Ce la fai, ce la fai, ce la fai. Eh no, non ce la fai, ce la fai, ce la fai. Sì, quanti cazzo sono? Eh, per poco. Raga, raga... Sì, vabbè. Little Impossible 1v3, cioè... Facciamo un'altra, dai. Coordiniamoci, eh, mi raccomando. Raga, qua c'è la ragnatela, eh, raga. Quindi c'è il collegamento al centro se andiamo ai diamanti. C'è subito il collegamento al centro. Alla proviamo, dai. Ricordate che è un po' buccherellata, eh. Bisogna piazzare dei blocchi quando si va al centro. Ma perché non c'è una catena? Guarda che il ponte è al centro così, vabbè. Ma sì, ma sì. Va bene, aspetta, aspetta che mi tocco e metto la valvola. Che prima arriva meglio alloggia. Metto la valvola, cosa? Metto la valvola della pazzia e attacchiamo subito, dai. Ah, ok. Stesso il collegamento ai diamanti, eh. Sì, per forno, no, no, servono i diamanti, servono. Super utile. I primi due esmeraldi sono presi. Sta venendo al centro il blu, come ho detto prima. Anche il giallo, il giallo. E, oh, ragazzi, zio, zio, zio. Gimmi. Appena fa il ponte, il blu, non è coperto il loro letto. Ci dobbiamo provare, non sarà semplicissimo. Io devo mettere subito la trappola, appena ce la diamo. Ho lasciato gli esmeraldi, eh. Che è successo lì, Sascha? Io penso facesse il ponte. Vai, 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 vai. Corri, 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 corri. Distruggi l'ho. Bravo, su, arri, bravo, vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, su, arri, con un treno. Vai, 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 vai. Che sta succedendo? Vai, con un treno. Ma che sta succedendo? Ma che sta succedendo? Figlia, 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 figlia. Che è successo? È morto, sono tutti morti subito. Siamo una cazzo di tempesta. Ma che è successo, raga? È nulla. Non ho capito niente. Te l'ho detto, risparmatori di merda. Andiamo subito a distruggere i rossi, vieni. Vai, vai, non batterdoche. Avete almeno un piccone di legno, almeno uno? Ma non serve, c'ho le fire charger. No, 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 ragazzi, gialli, gialli, prima gialli. Sto arrivando, c'ho il piccone. Raga, non mi lasciare da su. Giallo, 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 giallo. Il giallo sta venendo da noi, il giallo sta venendo da noi. Con calma, ragazzi, non perdete il controllo della partita. Ragazzi, stanno venendo da noi, stanno venendo da noi. Stanno venendo da noi. Stanno a vedere. Vai, 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 dietro, Suri. Stanno a vedere tutto, fumo e niente al rosso. Vabbè, Suri, vai. Un cazzo vuole, coglione! Questi li ho lasciati qua, li ho ritrovati qua. I gialli, ragazzi, i gialli basta un piccone stupido hanno la terracotta. Sì, sì, è morto. Il giallo stupido muore, vabbè, lo vediamo di qua. I gialli hanno la terracotta. TOOPUM! STOOPUM! Che sta succedendo? Stè, hai un piccone. Sì, ce l'ho, ma non c'è il collegamento. Vabbè, non è un problema, sai cosa ti dico? Tanto sti cazzi gialli adesso sono chiusi in base come dei piccoli bastardi canarini. Meglio così. Aia, i rossi arrivano verso la nostra base. Occhio, raga. Io si può chiccarlo nel vuoto così. Lo eliminiamo subito. Sono da solo, sono da solo. Mi hanno fregato gli smeraldi. Gialli sui rossi, attenzione. Fai da tra con i pelini. Oh, stè, i rossi sono... Eh, no, 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 c'è un giallo che... No, non esiste, ragazzi. C'è un giallo che prende da 50 chilometri. Non riesco a fare niente. Bravo, legolas, legolas. Sto scappando. Questo, è questo, è questo. È morto, sono morto, sono morto. Che è morto? Sei morto o è morto? Sono morto. Eh, sono morto ma era quasi morto. Raga, forse è quello di... Orga, i rossi, via dai coglioni. Raga, c'è un altro, c'è un altro. C'è un altro, c'è un altro. C'è un altro, c'è un altro. Kiccarlo di sotto. Ok, lui viene da questo maledetto. Raga, ho distrutto il letto dei rossi. Adesso c'è un altro rosso al centro. C'è anche un giallo. Calma, 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 calma. La TNT la prendiamo. Dai, ce la mettiamo in saccoccia. Che hai fatto, mamma? Mia madre fa i soffocotti. Panda Gaming, l'ultimo rosso, è nella sua base con Meta Vita. L'abbiamo. Provo, un'escursione ai rossi. La metto. No! C'è bravo, vai. Oh, la TNT non me la piazza. Mortaccilo. Questi stanno a dormire. Si è aperto il letto. Rato. Crepa malissimo. No, il giallo, il giallo, sono troppi i gialli. Dove sei, dove sei? Quanti gialli ci sono? L'ho portato in tomba con me. Però sono morto. Mi ha ammaso tutti i palazzi. Ma come fai a saltare così? Con la pozione. E sono anche invisibile. È bello. Mari! L'ultimo là sopra. Il rosso, ragazzi, è scarso alcuno. Non c'ha manca un'armatura. Sto poraccio. Lanciate gli centesimi negli occhi. Tu poi hai questi soldi. Ah, ok. È là, è là. Lo vedi? Lo vedi ai diamanti? La vuoi tu? Vai, tutti insieme. Tutti insieme. No, 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 no. No. Ma che è successo? Raga, non c'ho capito niente questa arrieturata. Nemmeno io. E raga, vabbè, ne facciamo un'altra, easy. Subito al volo, seconda. Dai! Questo video del better salmina qua. Spero che vi sia piaciuto. Se non è stato un video facendo spolliciate, commentate, commentate, condite, scopate e caccia. A presto il prossimo video. Questa è per tutti un po' di vita. Bye, bye! Io sono confuso. A me sto ancora registrando, raga.